Ci sono dei momenti, e questi in cui uno vorrebbe dire tante cose, ma si fa fatica. Penso però che la prima parola che dobbiamo dire oggi insieme è grazie. Grazie a Giancarlo e al concetto perché oggi ci date questa possibilità di assistere perché i celebranti del matrimonio siete voi, noi siamo gli assistenti. Grazie ai genitori, alla famiglia, a Giancarlo, grazie alla mia famiglia. Sono questi dei momenti inverni, e tanto la famiglia stretta, papà, mamma, Roberto, quando la famiglia è allargata. Ringrazio Donino, ringrazio Alberto, ringrazio le persone che sono venute da Canazie, che poi saluta per tutti i famigli, ringrazio le persone distanzate, che ormai per me è una seconda famiglia. Ma questo grazie diventa pieno, se insieme oggi diciamo grazie al Dio che realizza i nostri sogni. Non è un Dio che ci fa soffrire, non è un Dio che ci procura sofferenze, ma il nostro Dio è un Dio che vuole realizzare i nostri sogni. Dio che vuole realizzare i nostri sogni. Scrolling through the memories Of when we began I couldn't find a single regret There's a beauty that guides us Like a fire in the night As the sun shines upon each new day There's a beauty that guides us Like a fire in the night As the sun shines upon each new day There's a beauty that guides us Like a fire in the night As the sun shines upon each new day As the sun shines upon each new day We could write an end of story Through the struggle and the glory By your side I will stay We will never fade away By your side I will never fade away By your side I will never fade away Grazie a tutti